Filippo Sala, buongiorno. Buongiorno a te Livio e grazie per il... Benvenuto. Grazie mille. Benvenuto davvero nel nostro podcast per parlare di musica, parlando di libri. Noi normalmente di musica non ne parliamo, ma se è nei libri altro che se ne parliamo. Molto, molto volentieri e andiamo subito a curiosare nel libro di Filippo Sala pubblicato dall'editore milanese Ancora Libri e il libro si intitola Attraverso l'universo. L'anima pop dei Beatles con la prevenzione di Rolando Giambelli e Filippo Sala insieme con noi per raccontarcelo, ma non troppo, perché come sempre noi stiamo sulla soglia delle storie, anche la storia dei Beatles che ci racconta con una prospettiva molto singolare Filippo Sala che è laureato in linguaggi dei media all'Università Cattolica di Milano, Ateneo con il quale collabora tuttora con lezioni in veste di esperto sui rapporti tra musica, letteratura, spiritualità nei corsi di italiano per la comunicazione e beni culturali, art director e molte altre cose, appassionato di musica, cantautore ed è molto, però io vorrei soffermarmi su un aspetto Filippo Sala prima di entrare dentro il libro. Allora, i corsi di italiano per la comunicazione e beni culturali, esperto sul rapporto tra musica, letteratura e spiritualità. Ecco, in che modo queste tre parole, musica, letteratura e spiritualità entrano in questi corsi di italiano per la comunicazione? Allora Livio, è una bellissima domanda, dunque ti posso rispondere così, queste tre parole che hai citato diventano quasi dei fili di un tessuto, un tessuto che io unisco quando faccio lezioni, poi sono ragazze e ragazzi molto giovani, parliamo del primo semestre, quindi quando devono ancora proprio prendere anche un po' le misure con l'università, diventano proprio un tessuto fatto di esperienze che sono legate appunto all'elemento della musica, all'elemento della parola e all'elemento della della spiritualità, che vanno a creare appunto per questi due tipi di corso di laurea sia un linguaggio sia un bene culturale. Perché un linguaggio e perché un bene culturale? Perché il linguaggio dei cantautori, soprattutto del cantautorato di quando ne parlo di università, ma anche quello di Beatles, è un linguaggio che ormai è storicizzato, diciamo che ha circa quella cinquantina d'anni che permette di avere quel distacco necessario per poterlo valutare e anche per poterlo inserire in quel contesto storico, sociale, che poi ti aiuta anche a capire perché magari sono state scritte certe cose. E funziona benissimo anche per gli studenti di beni culturali, perché noi dimostriamo che la canzone con queste sfumature che sono sia di parola sia di valore, quindi di elemento valoriale della spiritualità, sono un bene culturale da portare avanti nel tempo. E devo dire che per l'entusiasmo e per la quantità di tesi di laurea che seguiamo ogni anno legate a queste mie lezioni d'esperto e per le valutazioni che ricevo buone, perché poi il bello è che poi gli studenti ti valutano anche su queste cose, devo dire che siamo estremamente soddisfatti. Eh sì, ed è una soddisfazione importante questa perché permette di aprire pagine di futuro, ma adesso guardiamo indietro, guardiamo la storia. È una storia che si continua ancora a vivere oggi, si continuerà a vivere ogni giorno, cioè la storia dei Beatles. Ci racconti l'immagine di copertina? Allora, l'immagine di copertina è un'immagine sulla quale io da un lato ci ho pensato tantissimo, dall'altro deciso distinto in quattro secondi. Essendo art director deve avere le mani in pasta, vero? Esattamente, esattamente. Poi ho imparato con gli anni a, diciamo, trasferire in materia o comunque in digitale quella che è l'elaborazione di un'idea. Quindi prima la mia testolina l'ha macinata e poi siamo andati sui vari programmi, anche se confesso che prima ho fatto un layout a mano, come si faceva una volta. Allora, io sono un grande appassionato di fotografie dei Beatles. Ormai compro quasi solo libri fotografici su di loro, cose che a volte non escono neanche in Italia e che acquisto poi magari così tra le librerie inglesi, americane, dove si trovano. Mi piace il loro sguardo e sono rimasto innamorato delle foto che Robert Freeman, un fotografo che li seguiva quando erano molto giovani, teni conto che queste foto risalgono a 64, quindi uno dei loro anni più belli, quello di Hardest Night, per esempio. Queste sono le foto che Robert Freeman aveva fatto nella loro sessione fotografica per Hardest Night. Ho pensato che non fosse il caso di raccontare la storia dei Beatles nello stesso modo in cui viene raccontata ormai tantissime volte, un po' perché ci sono dei storiografi loro in materia molto più esperti di me, un po' perché io sono un saggista, sono un saggista pop. Io non devo raccontare cosa succede tutti i giorni nella vita dei Beatles, devo raccontare altre cose, altri aspetti, devo raccontare la loro essenza ed è per questo che ho puntato sullo sguardo, perché ho voluto con il mio libro, con Attraverso l'Universo, dare uno sguardo sull'anima pop dei Beatles, quindi gli occhi un po' più malinconici di Lennon, quello furbo di Harrison che fa l'occhiolino, quello che ride di Ringo Starr e quello un po' più come si dice a Milano Paciarotto di Paul McCartney che vuole andare d'accordo con tutti, mi sono sembrate quattro visioni che poi unite davano un bellissimo sguardo sulla loro anima pop. Ogni foto dei Beatles sembra perfetta, scrive Rolando Giambelli che è il fondatore dei Blitzesani d'Italia Associati. Ecco, quindi le tue parole ci hanno raccontato proprio la perfezione dello scatto fotografico, perfezione perché? Perché? Perché coglie l'attimo e soprattutto coglie il carattere nello sguardo. Sì, ma sai poi c'è anche questo aspetto molto bello che possiamo dire oggi, loro sono stati fortunati, ma sono stati anche dei magneti in un certo senso, cioè sono stati molto bravi ad attirare la talentuosità di tanti giovani fotografi, penso appunto a Robert Freeman, penso a Dizzo Hoffman, penso insomma li ha fotografati anche Avedon a un certo punto, Richard Demers, insomma tantissimi fotografi dell'epoca che si stavano, Richard Benson che ho avuto il piacere di conoscere, fotografi che si stavano formando, stavano diventando qualcuno e che le riviste, siccome i Beatles erano già allora un fenomeno di costume, le riviste tipo Life eccetera, gli davano la possibilità di seguirli, di frequentarli per fare i cosiddetti reportage. Nasceva un'amicizia poi perché loro erano molto complici, poi non va mai dimenticato che i Beatles sono stati molto sotto pressione tra tourney e dischi eccetera, quindi amavano quando trovavano un'anima che con loro andava d'accordo, portarsela dietro, circondarsi perché si trovava quel rapporto di fiducia che era poi profittevole, nel miglior senso della parola profittevole per entrambi, sia per gli artisti che per i fotografi che si creavano un nome e entravano in un giro insomma che gli permetteva di vedere quello che in Inghilterra si chiamavano le beautiful people, cioè le persone giuste. Eh sì, le persone giuste, qui in questo libro di persone giuste se ne incontrano, giuste nel senso che hanno saputo incidere nella storia, anche se in quel momento non pensavano di realizzare una rivoluzione musicale, ma poco per volta l'hanno realizzata, l'hanno realizzata in gruppo potremmo dire e anche anche nella parte solista, perché spesse volte noi raccontiamo i Beatles come giusto che sia, però i Beatles io penso che si debbano raccontare senza dimenticare poi le esperienze, le esperienze personali di questi quattro musicisti. Assolutamente, anche perché loro, tieni conto, hanno avuto un periodo esistenziale dove sono andati insieme quando erano molto giovani, quando i Beatles si sciolgono, il più vecchio, per sé si può dire vecchio, è un ragazzo di circa 29 anni che è Lennon, perché tecnicamente i Beatles chiudono nel 69, anche se poi c'è la coda di Let It Be, o Give Back, come lo vogliamo chiamare uguale. Dopodiché loro hanno delle carriere soliste assolutamente interessanti che se vogliamo estraggono la loro essenza, perché lei non diventa questo intellettuale, questo agitatore di popolo, questo artistoide insomma new yorkese che lo cambia sia nell'aspetto fisico sia nel pensiero, perché frequenta anche tutte le varie sottoculture di quell'epoca. Mecca, cioè McCartney, diventa un po' ancora capo di una band, dimostrazione che non è che avesse molto digerito la separazione del gruppo. Ringo Starr per un po' fa qualcosa, ma poi diventa soprattutto un eroe dei bambini, e Harrison che poi è il mio Beatle preferito, sviluppa un'incredibile carriera solista nel segno della spiritualità, fino a quando si stufa, si vede dai dischi poi che fa, per poi tornare e chiudere alla grande. Io trovo credo che le loro carriere soliste siano assolutamente meravigliose, magari non perfette come quei sette anni che hanno vissuto insieme. In particolare la carriera di chi, Filippo? Allora sicuramente, dipende da che parte la guardi, perché per longevità e per essenza sicuramente McCartney è quello che adesso tu vedi Paul McCartney e porti in giro veramente i Beatles. Porti in giro i Beatles, ma porti anche per esempio una carica di espressione musicale che sembra veramente una straordinaria musica classica, no? Perché ormai i Beatles sono musica classica, ma Paul McCartney si è cimentato con la cosiddetta musica alta, la musica colta, e ha fatto delle cose straordinarie. Con ottimi risultati, con ottimi risultati, se tu invece vuoi sentire il loro animo senti George Harrison, se tu vuoi vedere un po' la parte più provocatoria, ma provocatoria nel senso proprio latino, provocare, cioè chiamare per qualcosa, sicuramente John Lennon nella primissima parte è stato fantastico. Anche perché ha portato in scena un sentimento universale della pace, no? Che non è solamente Imagine, è molto di più. Tra l'altro lui è uno che anche, se vogliamo essere venali, ha speso per la pace, nel senso che quando faceva le campagne, faceva campagne mondiali, costavano tanto e che però ridavano anche tanto, perché tappezzare le città del mondo con l'war is over if you want it, noi adesso sorridiamo. Una volta non c'era digitale, gli stampare, produrre, fare, dispare, cioè era una cosa molto, molto impegnativa, ma lui ci credeva. Vedo qui una sottolineatura tra le tante di questo libro intitolato Attraverso l'universo, l'anima pop dei Beatles, scritto da Filippo Sala e pubblicato da Ancora Libri, una domanda che noi qui non ci organizziamo le domande e in questo caso la domanda la trovo già bella che è pronta. E se fosse Paul McCartney, perlomeno in senso all'artistico, la vera anima dei Beatles? Lo è, lo è, sì sì sì, lo è. McCartney, poverino, paga il prezzo di esserci ancora, se mi permettete la battuta, nel senso che, sai, lei non è morto, purtroppo assassinato, a 40 anni è diventato un martire, Harrison non c'è più, Ringo Stara alla fine ha scelto di fare altro. McCartney in anni 60 andava ai concerti di musica sperimentale di Stokhausen di Luciano Berio, andava ai festival artistici, ha aperto una galleria d'arte e poi McCartney a Londra, perché gli piaceva l'arte moderna, lui collezionava, spendeva, investiva, era la mente più fertile di tutti, però come immagine Lennon era quello lì, capito? E quindi McCartney si è sempre trovato un po' a soffrire, questa posizione, ma ci sono dei libri bellissimi, sono dei suoi disegni a mano che io ho, sulle copertine di Sargent Pepper, sulle idee che aveva, era una persona McCartney. E se non ricordo male c'è stata anche una mostra dedicata ai suoi disegni di Paul McCartney. Assolutamente, perché poi lui è anche un pittore oltre che un disegnatore. Attraverso l'universo andiamo proprio nella metafisica, nello spirituale, perché la storia dei Beatles non è solamente musicale, come si diceva, è anche molto spirituale, no? Non dico la parola religiosa, ma per certi aspetti c'è anche, no? E in che modo lo possiamo toccare, nel vero senso della parola, questo sentimento? Questo sentimento diciamo che lo possiamo toccare, lo possiamo sentire in due modi, un po' attraverso la loro produzione. Cioè, se pensiamo al fatto che comunque George Harrison volutamente, quando ha iniziato a pensare indiano, ha cambiato la spiritualità dei Beatles. Che McCartney, tanto per cambiare ancora McCartney, ha sempre detto noi, abbiamo mai avuto una spiritualità, ma a un certo punto ci siamo accorti di averla persa. Quindi si vede a loro questa esigenza, no? Questa esigenza di spiritualità, questo quasi senso religioso, no? Loro ci avevano dentro e l'avevano lì latente. Un po' perché forse erano stati obbligati ad andare ai riti, a seguire una ritualità che gli stava stretta e che l'India li ha aiutati, questa terza sponda, no? L'India, come si dice sempre, li ha aiutati a sviluppare. E poi loro sono stati dei grandissimi cantori di una spiritualità sotto traccia, molto gentile. Insomma, è difficile ascoltare le TB e pensare che non sia una canzone spirituale o across the universe o per esempio Within You, Without You di George. Cioè, sono canzoni che hanno una grandissima carica spirituale. Se pensiamo alla sapienzialità, pensando appunto alla sapienza, la virtù della sapienza che c'è in We Can Work It Out, nell'aiutarsi, no? Nel volere bene. La spiritualità è anche quello, no? Guardare i propri fratelli in un altro modo. E loro l'hanno fatto, ragazzi, vendendo milioni di dischi. Io credo che sia una cosa incredibile, memorabile, veramente. E abbiamo dimenticato, forse non l'abbiamo ancora citato, se non tu, forse una volta o due, Ringo Starr. Perché Ringo Starr, con il suo carattere particolare ed è bellissima la definizione che Filippo Sala ci dà di Ringo Starr, no? Il ruolo di Beniamino e Beatle preferito dai bambini. Ecco, Ringo Starr è la fiaba della bella notte, con il più bel lieto fine dell'intera mitologia blitesiana. Ora, io credo che questa frase risolva ogni questione nei confronti di Ringo Starr. Assolutamente, perché lui era quello che abitava, per esempio, la chiamava lui la casa della riconciliazione. Cioè, loro ritiravano parecchio, perché si volevano bene, quando ti vuoi bene il Dio anche. Se andava a casa di Ringo a far colazione, per far la pace. Quindi già quello che dà l'idea della sua indone. Lui era il collante, era quello che stava lì aspettare che gli altri geni gli dicessero suona qui, suona là. Ma non dimentichiamo che lui è stato il primo che nel 1966 ha inventato i tape loop elettronici. Se prendeva un pezzo, lo montava, è stato il primo a farlo in Tomorrow Never Knows, che è un altro canzone assolutamente spirituale, meraviglioso. Quando poi la vita Ringo Starr ha chiesto il conto di certi stravizi, lui ha avuto il coraggio di ripartire da zero, di reinventarsi, ha scoperto questo suo lato molto dolce, è diventato l'eroe dei bambini, è diventato un personaggio di cartoni animati, di film, dimostrando che alla fine anche quest'anima dei Beatles, quest'anima di gomma, come diciamo il titolo di Rubber Soul, così modificabile, così malleabile, poteva valere veramente per tutti e rigenerarsi in varie generazioni. Io adoro Ringo Starr come personaggio, ho sempre trovato un personaggio fantastico, ci andrei a bere un caffè con Ringo, molto volentieri. Eh sì, veramente, e anche con Paul McCartney, perché no, uno per uno. Ti emozionerei parecchio, ti emozionerei parecchio, dico la verità, Lidio. Uno per uno, ma qual è l'ultima volta che hai ascoltato una canzone di Beatles? Qual era? Stamattina. E che canzone era? Io ascolto un disco di Beatles al giorno, intero, e stamattina ho ascoltato No Reply, che è la canzone che apre i Beatles for sale, che è un loro disco poco considerato, ma che io trovo molto bello. Ma invece la prima volta, te la ricordi, quando hai... Quando li ho ascoltati? Da bambino, da ragazzino, ma chi sono questi? Mi piacciono. Sì, sì, è stato in Trentino una sera quando i miei genitori, invece di portarci un regalo qualunque al venerdì perché venivano a trovarci, mi hanno portato una cassetta registrata con le loro canzoni. Io ho sentito, mi pare, no, anzi, non so benissimo, quella è la prima canzone che ho sentito. Ho sentito Revolvere, non ho capito più niente. Ho sentito Tax Man di Giorgetti. Anche grazie a nonna Elvira che ha regalato un biglietto che voleva buttare via. Il famoso concerto al Vigorelli di Milano. Sì, mia nonna era una donna fantastica e mi ha cresciuto perché come tanti bambini, insomma, che i miei genitori lavoravano tanto. E mia nonna mi ha cresciuto e un giorno è arrivata, lo dico in dialetto, poi lo dico in italiano, è arrivata con questa scatola piena di cose, mi fa Filippo, gli sgiacchi via, cioè le butto via. Io ho guardato cos'erano, erano dei biglietti, di concerti, di partite di calcio. Tuttavia, negli anni 60 ho trovato quello del Vigorelli, ho detto, no, nonna, questi non buttarli se vuoi li tengo io. E quindi mi sono portato a casa la storia, così, che mia nonna, da pratica signora pavese, voleva liberare per far spazio, per chissà che cosa. Rimaniamo ancora a casa tua, Filippo. Sì. Perché sei diventato un paperback writer grazie a mamma e papà? Perché questo libro l'ho scritto di notte e quindi andavo a cena dai genitori che erano tutti contenti, mi chiedevano i progressi, mi preparavano la cena prima che io andassi giù in studio da me a scrivere e i miei genitori sono due Beatlesiani, anche loro ovviamente, e quindi erano, non stavano più nella pelle all'idea di quello che stavo facendo. E che cosa hanno detto una volta letto il libro? Sono molto orgogliosi, sono molto orgogliosi, sì, ma sono felice che gli piaccia. Filippo Sala, autore del libro Attraverso l'universo, l'anima pop dei Beatles, il libro pubblicato, lo ricordo da ancora libri. Ma prima di salutarci invece, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni? In questi giorni mi fa compagnia lo sbarbato di Umberto Simonetta, che è un libro del 1961 che mi hanno consigliato di leggere i miei amici della Fondazione Gaber, dicendomi che insomma se leggevo quel libro avrei capito tanto di quella Milano lì, quella di Gaber e gli annacci che io canto nei concerti col mio gruppo ed effettivamente mi sto divertendo come un pazzo, lo consiglio a tutti. Lo sbarbato di Umberto Simonetta, io ho letto solamente se non ricordo male, il giovane normale, se è giusto il libro. E poi c'è Tirarò al mattina che è il terzo della trilogia. Si tratta di diversi, diversi anni fa, poi è stato mi pare ripubblicato da Baldini e Castoldi. Può essere, io l'ho trovato, ti dico la verità, in una libreria di seconda mano che frequento a Gorgonzola di un mio amico e non ho potuto resistere. Hai voglia altro che, bisogna averle quelle copie che sono importanti, grazie, grazie davvero Fabrizio Sala e buona giornata. Filippo. L'ho detto, ecco un'altra volta che sbaglio il nome, Filippo, Filippo Sala e non Fabrizio. Grazie. Grazie davvero e buona giornata ancora. Grazie Livio, grazie mille.